Ciao a tutti! Ciao a tutti! Benvenuti e ben ritrovati nel mio canale! Io sono Marina Caffueri e ciò che vedete è la mia nuova creatura, sempre della linea Raffaella, ma la maglia in questo caso è un top down, quindi partiremo dal collo e scenderemo fino ad arrivare al nostro scalfo e poi giù fino al fondo. Quindi è una maglia che va bene ovviamente per tutte le taglie, dalla XS ma anche per i bambini fino ad altre taglie. Vi spiego tutto, lo sapete che vi spiego tutto nei minimi dettagli, in ogni cambio, anzi faremo, adesso vi faccio vedere anche la versione arancione, faremo anche una versione con questo ovviamente si arriva al punto manica e poi si aggancia per proseguire sul busto. Mentre quella arancione è proprio quella del tutorial dove vi mostro come fare uno scalfo un pochino più sagomato, ok? Quindi per chi ha un pochino più di seno, forse quel tipo di chiusura potrebbe andare anche meglio che questa. Vi faccio vedere anche il dietro. Eccola qua. Eccola qua. Come vi sembra? A me piace tantissimo. Ciò che ho usato tra l'altro sono rimanenze di un filato e di un altro, ma ne parleremo dopo. Quindi usate i filati che più vi piacciono, potete utilizzare magari rimanenze di filati di un tipo o dell'altro, metterli insieme come più vi piace. Questa è una rimanenza di una cake, tra l'altro del cardigan che ho fatto un mesetto fa più o meno. E questa invece è una rimanenza del amigurumi cotton. Quindi ho inserito insieme i tre filati, quindi uno, due e tre. E il risultato è questo. Che ne dite? Aspettatemi che vi faccio vedere anche quell'arancione che non è per me. Difatti la vedrete, è più cortina. Eccola qui. Come vedete questa è più sportiva, no? Se vogliamo l'ho lasciata cortina perché chi la deve indossare la voleva più cortina. E dietro è sempre... Questa è sempre l'amigurumi cotton. Quindi questo è unico colore. Non ha voluto nessun tipo di rifinitura nella scollatura. Io quindi... Ma vi mostro ovviamente al fine tutorial come fare eventualmente anche la rifinitura del collo. E questa è la parte dietro. Come vedete è bella comoda, però è cortina. Vedete? Quindi va bene anche per una ragazza, come no? E di fatti chi la indosserà è una splendida ragazza. Ok, andiamo al tutorial. A dopo! Partiamo con una leggera teoria. Ok, solo per farvi capire il ragionamento e poi voi, ovviamente in base a filato che avete, realizzate più o meno ovalini di partenza. Parto da questo perché molti, nonostante faccia lo schemino, Poi mi chiedono, ma per la taglia X quanti ne devo mettere? Non c'entra la taglia. Questa è solo la scollatura. Partiamo quindi dallo scollo, dallo scollo per poi scendere verso la nostra fine corpo, diciamo il nostro mezzo busto. Ok? Quindi dal collo in giù, un top down, così come lo chiamano. Quindi non ci occorre la taglia in questa fase, ma occorre solamente fare tanti ovalini, che ora vi spiegherò, quanti ne occorrono per arrivare alla misura dello scollo che voi desiderate. Basta farne X che adesso vedremo, li unite, provate a farlo passare dalla testa, vi guardate allo specchio e vedete se vanno bene. C'è però un però. Questi ovalini devono essere dispari, quindi non potete farne 8, 8, 6 e 6, perché sono pari. Il dispari è 1, 3, 5, 7 e via dicendo. Quindi devono essere dispari, perché per riuscire a fare il nostro Raffaella. Ok? Quindi, quello che io ho utilizzato per realizzare il mio Raffaella rosa e verde, che avete visto, è di 9 ovalini nella parte, diciamo, frontale, nello scollo frontale, 7 ovalini nella spalla, 9 di nuovo ovviamente, no? 9 ovalini schiena e 7 ovalini spalla. Quindi, come vedete, sono dispari. Più ne aggiungo 4, che sono i miei angoli, sono quelli scuri che vedete. Quindi, se adesso voi andate a fare come andrò a fare io, 36 ovalini, e vedete che va bene, ok, quindi proseguite con me. 36 ovalini in totale, compreso gli angoli, e vedete, 9 più 9, più 7, più 7, più 4 degli angoli. In totale sono 36. Quindi, se i vostri 36 ovalini corrispondono, chiudendoli, alla circonferenza dello scollo che va bene, ok, altrimenti vi regolate in questo modo. Dovete semplicemente, se è troppo largo, dovete forzatamente avere dei dispari. Quindi, anziché 9, ne fate 7. Di conseguenza, ne farete 7 anche qui, di conseguenza, ne toglierete 2 anche sull'esplice, spalle, quindi saranno 5 e 5. Purtroppo siamo vincolati dai dispari, ok? Quindi dobbiamo restare in questi dispari. Quindi cercate di provare. Fate tanti ovalini, quanti ve ne occorrono per raggiungere la vostra dimensione. Ricordate che agli ovalini, occorrerà poi aggiungerne 4, ok? Quindi, in totale, io adesso ne vado a fare 36. Allora, come sapete, io uso l'amigurumi cotton, e quindi un uncinetto numero 3. Allora, il cotone è bellissimo. L'ho usato molte, molte volte. Si parte, ovviamente, dal primo ovalino, ok? Partiamo da qui. Partiamo da il nostro angolo. E quindi, bloccato il filo, andiamo a fare 4 catenelle. due volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella, e andiamo a chiudere 2 a 2 le maglie. così. Rifacciamo la stessa cosa, quindi 4 catenelle, scusatemi, nella prima, dove c'è il panciotto, mettiamo il segna punto. Questo è il primo angolo, quindi non conto ancora i 7 ovalini. ho fatto 4 catenelle, due volte il filo sull'uncinetto, vado nella prima, vedete, nella prima solina, e nell'ultima, quindi la prima è quella di queste 4 catenelle, e l'ultima, intendo, proprio la parte superiore di questa maglia. Vedete, questa e questa. Prendo il filo, e chiudo 2 a 2 le maglie. Di nuovo, 1, 2, 3, 4, di nuovo entro, chiudi 2 a 2 le maglie. Di nuovo, due volte il filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo, e chiudo 1, 2, e 3. Dobbiamo farne 7, senza contare questo, quindi ne abbiamo fatti 4, andiamo avanti ancora, 4, 4 catenelle, entro nelle due asoline, prendo il filo, ok, io ne ho quindi, a parte la prima, dove ho messo il marca punto, che non conto, ne ho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7. Adesso, ho la mia spalla, vedete, siamo partiti di qui, ho la mia spalla, devo fare l'angolo, e lo faccio nello stesso modo, sempre 4 catenelle, due volte il filo sull'uncinetto, entro, nelle due asoline, e chiudo 2 a 2 le maglie, quello che abbiamo appena fatto, è il nostro angolo, perché l'ottava, in base ai miei calcoli, e l'ottava, adesso, ciò che andiamo a fare, sono, i 9, ovalini, della parte dietro, quindi, andiamo a fare la stessa cosa, questo è il primo, dei 9, che devo fare, e vado avanti, fino a 9, allora, io sono andata avanti, li ho fatti tutti, adesso vi faccio vedere, siamo partiti dal primo, e ne abbiamo fatti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e, questo è l'angolo, l'ottavo è l'angolo, ok, e abbiamo fatto questi, abbiamo fatto anche l'angolo, dove, dove abbiamo messo il marca punto, adesso ne abbiamo fatti 9, quindi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9, siamo arrivati da questa parte, e abbiamo fatto il puntino nero, che è il nostro angolo, dove abbiamo messo il marca punto, siamo andati avanti per altri 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, e abbiamo fatto il nostro puntino, nero che è l'angolo, dove abbiamo messo il marca punto, gli ultimi 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9, e tolgo il decimo, perché, ok, perfetto, perché, perché il 9, dobbiamo agganciarlo al primo, quindi, qui devono essere soltanto 9 ovalini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, io poi cosa ho fatto, visto che, devo fare, un'altra maglia, e quindi di conseguenza, posso vedere di farla anche con uno scollo diverso, questo scollo, allora praticamente, questo è così, scusatemi, sto cercando di, ecco, questo scollo, così non si riesce a capire bene, potrebbe andar bene, potrebbe andar bene come dimensione, tu cosa devi fare, la cosa più importante che tu devi fare è questa adesso, aggancia il tuo ovalino, in questo modo, riprendi di nuovo dall'ultimo, dal nono, l'ultimo che abbiamo fatto, così, tieni la pancia di questa asolina verso le dita, e prosegui fino ad arrivare alla prima, alla prima, al primo ovalino, ok, tenendo sempre, facendo in modo che venga dritto, così, deve rimanere dritto, perfetto, quando sei arrivata all'ultimo, ti agganci dentro l'ovalino, prendi il filo, e lo porti decisamente dentro, e così hai unito, fai magari una catenella, proprio solo per unirlo, metti ora un segnapunto, abbiamo insieme, abbiamo fatto insieme adesso, 36 ovalini in totale, calcolando gli ovalini, delle nostre spalle, dietro e avanti, più quattro dei nostri angoli, e difatti, abbiamo negli angoli, abbiamo, qui ovviamente è questo, l'angolo, abbiamo i quattro marca punto, ecco, ve l'ho messo un pochino meglio, in modo tale da capire bene, cosa abbiamo fatto, qui abbiamo i sette ovalini, quindi abbiamo gli altri sette, i nove e i nove, più i quattro ovalini degli angoli, ok, mi viene questa dimensione, allora vediamo un po', quindi abbiamo un 18, per, circa, eh ragazzi, circa 18, per 14, angolo, angolo, più o meno 18, per 13, 13 e mezzo, ecco, rifaccio di nuovo questo, aspettate che mi tolgo gli ovalini qua sotto, mettiamoli qua, 17, per 13, 17 per 13, adesso ve lo scrivo qui, a me viene 17, per 13 centimetri, ok, come dimensione, come dimensione, io vi dico, adesso la provo ancora, adesso quello che voi dovete fare, molto semplice, provarla, far passare, attraverso la testa, attraverso, fatelo passare, appoggiate la allo scollo, e guardate se vi piace, se è troppo stretto, sapete come fare, dovete aumentare, ovviamente, due ovalini per parte, sempre dispari, devono essere, non contate mai gli angoli, che sono quattro, lasciateli stare, devono essere dispari, questo, 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 e questo, ovviamente, i sette, diventeranno nove, o possono diventare cinque, i nove, diventeranno undici, oppure possono diventare sette, quindi, in questo senso, ok, dispari, penso che sia chiaro, andiamo avanti adesso, con la lavorazione, era importante questa parte, perché è da qui che parte, la nostra meravigliosa Raffaella, top down, riprendiamo quindi il nostro lavoro, e andiamo messo solo un po' di crema, le mani, e andiamo a riprendere il punto, in cui è stato collegato l'ultimo, l'ultimo ovalino con il primo, quindi andiamo a riprendere l'ultimo ovalino, ricordate che io avevo fatto una catenella, proprio solo per bloccare, la tolgo, tolgo quella catenella, adesso devo andare nel centro, lavorerò, attenzione, guardate bene che sia dritta, che sia dritto l'ovalino, lavorerò sulle catenelle, ok, quindi nella parte panciuta, quella dove ci sono le catenelle, quindi non nella maglia altissima, che la lascio in qua, ma bensì su questa maglia, la prima cosa che devo fare, è andare un pochino più vicino al centro, perché sono vicino alla chiusura dell'ovalino, vedete, quindi io vado in questa maglia centrale, prendo il filo agganciato al gomitolo, e lo porto nella maglia, e qui sono, ok, perfetto, sono al centro del mio ovalino, tiro su 3 catenelle, e vado a fare metà del mio angolo, quindi prendo il filo, e faccio una maglia alta, in questo modo, quindi ne ho soltanto 2, per questo mio primo angolo, allora dove l'ho messo, mettiamo magari un segno appunto qui, nell'ultima delle 3 catenelle, che abbiamo fatto, ora facciamo 1, 2, e 3 catenelle, andiamo nella pancia dell'ovalino, in questo modo qui, centrale, quindi direi proprio in quella centrale, prendiamo il filo, e lo tiriamo su, per 3 volte, 1, 2, e 3, ora prendete il filo, lo portate all'interno, delle 3 maglie, non lavorate, e poi chiudete la maglia, facciamo 3 catenelle, andiamo nell'ovalino, che segue, e facciamo una maglia bassa, di nuovo 3 catenelle, stessa cosa, entriamo nell'ovalino, il più centrale possibile, e facciamo la stessa cosa, quindi un punto puff, da 3 fili tirati, 2, e 3, chiudiamo, chiudiamo le 2 asoline, e facciamo 3 catenelle, maglia bassa, nell'ovalino, ovalino successivo, di nuovo, 3 catenelle, entriamo nell'ovalino successivo, nella maglia più centrale possibile, lo so che sono 4, ma voi prendete sempre la stessa, 2, e 3, chiudiamo, chiudiamo, e facciamo 3 catenelle, nell'ovalino successivo, una maglia bassa, quando dico, prendete sempre la stessa, 3 catenelle, e perché io, per esempio, prendo sempre la penultima, ok, quindi se voi prendete la seconda, fatelo sempre nella seconda, se prendete la penultima, lo farete sempre nella penultima, il più centrale possibile, quindi entriamo, e facciamo un punto puff, da 3 fili tirati, 2, e 3, chiudiamo, chiudiamo le due asoline, 3 catenelle, siamo arrivati, vedete c'è questo che ce lo ricorda, nel nostro angolo, quindi entriamo nell'angolo, e facciamo 2 maglie alte, aspettate che l'ho preso malissimo, quindi 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2 maglie alte, ok, questo è il nostro angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, togliamo il marca punto, da dove era prima, e mettiamolo qui in centro, per ricordarci, dov'è il nostro angolo, ci servirà, fidatevi, ok, ora quello che dobbiamo fare, è la stessa cosa, che abbiamo fatto, per il primo lato, ciò vuol dire, 3 catenelle, e si parte con un punto puff, quindi, 1, 2, 2, 3, chiudiamo tutti e 3, chiudiamo le due asoline, e facciamo 3 catenelle, nell'archetto del mio ovalino, faccio una maglia bassa, 1, 2, e 3 catenelle, e di nuovo, 1, 2, e 3, rifaccio, allora, 1, 2, e 3, chiudiamo tutto quanto insieme, e chiudiamo le due, 1, 2, e 3 catenelle, nella successiva, una maglia bassa, e andate avanti così, fino ad arrivare all'angolo, quando arriviamo vicino, al nostro angolo, vedete dove c'è il segnapunto, entriamo nell'angolo, e andiamo a fare, 2 maglie alte, e 2, 2 catenelle, rientra di nuovo, nello stesso punto, e fai 2 maglie alte, togli il marca punto, ok, e lo metti in centro, al tuo angolo, proprio qui, dove ci sono le catenelle, abbiamo fatto quindi adesso, la parte del dietro, siamo partiti con un punto puff, nell'ovalino, che abbiamo il primo ovalino, dopo l'angolo, e abbiamo finito con il punto puff, ora si riprende, anche per questo lato, il lato che arriverà, quindi sono 3 catenelle, sempre per partire, e poi nella, diciamo maglia più centrale, che poi per quanto mi riguarda, è la penultima catenella, vado a fare un punto puff, da 3 fili, non lavorati, e poi farò, 3 catenelle, punto l'uncinetto, all'interno del mio, ovalino successivo, e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, e rifaccio di nuovo, il mio punto puff, 1, 2, 3, chiudo, chiudo, 3 catenelle, e una maglia bassa, nell'ovalino successivo, proseguite così, per gli ultimi ovalini, prima dell'angolo, nell'angolo farete, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 3 catenelle per ripartire, e di nuovo, punto puff, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, punto puff, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, e via dicendo, fino ad arrivare a, congiungerci, ci ritroviamo, proprio qui, siamo arrivati, alla fine del primo giro, e come vedi, sono a questo punto, questo è il primo, marca punto, che abbiamo messo, proprio quando siamo partiti, con le 3 catenelle, io finisco, il mio giro, con il punto puff, e le 3 catenelle, entro da dove sono partita, quindi in questo ovalino, e faccio, le 2 maglie alte, che mancano, 1 e 2, e poi, vedi, al posto, di unirmi, con le 2 catenelle, che ci sono sempre, nel nostro angolo, prendo il filo, entro, nella terza catenella, di partenza, quindi dove c'è, il mio marca punto, quindi qui, prendo il filo, e chiudo, tutte e tre, le asoline insieme, così sono praticamente, al centro del mio angolo, e ora ti mostro meglio, vedi, sono al centro, del nostro angolo, ok, forse così, si nota meglio, ok, partiamo, con il secondo giro, quindi, 3 catenelle, per salire, e una maglia bassa, a fianco, per partire, noi partiremo, sempre così, quindi, 2, 1, 2, e 3 della terza catenella, io metto il mio marca punto, così dopo, non dovrò contare, ora faremo, 2 catenelle, e scendiamo, nella seconda maglia alta, del giro precedente, quindi non questa, ma questa, entro, e faccio una maglia bassa, ora faccio 2, scusami, una catenella, entro sul punto puff, proprio sopra, e vado a fare, il mio archetto, quindi, 3 maglie alte, 2 catenelle, e 3 maglie alte, una catenella di separazione, andiamo sulla maglia bassa, e facciamo una maglia bassa, una catenella di separazione, e sul punto puff, entro, e faccio la stessa cosa, quindi, un ventaglio da 3, maglie alte, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte, una catenella di separazione, sulla maglia bassa, entro, e faccio una maglia bassa, una catenella, e sul punto puff, entro, e faccio, un ventaglio da 3, più 2, più 3, quindi, 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte, una catenella, una catenella, sulla maglia bassa, una maglia bassa, una catenella, sul punto puff, entro, un ventaglio, quindi, 3 maglie alte, in totale, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte, una catenella di separazione, fai attenzione a questo punto, allora, questo è l'angolo, ok, quando sei nel giro dei ventaglietti, fai sempre una catenella per scendere, vai sulla prima maglia alta, e fai una maglia bassa, 2 catenelle per salire, nello spazio del tuo angolo, entri e farai il tuo angolo, che è composto da 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra, 2 maglie alte, ok, togli il segnapunto, da giù, e lo metti nel nuovo angolo, che è quello appena fatto, andiamo a fare il nuovo lato, e si fa nello stesso identico modo, abbiamo appena finito l'angolo, facciamo 2 catenelle per scendere, e andiamo nella seconda maglia alta, della parte del giro sottostante, e facciamo una maglia bassa, una catenella, entro nel punto puff, e faccio il mio ventaglio, e qui si riparte, 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro, e faccio 3 maglie alte, catenella di separazione, sulla maglia bassa, entro e faccio una maglia bassa, catenella, sul punto puff, andiamo a fare, il nostro ventaglio, da 3 più 2 più 3, catenella di separazione, sulla maglia bassa, andiamo a fare, la maglia bassa, una catenella di separazione, e sul punto puff, facciamo un ventaglio, catenella di separazione, sulla maglia bassa, una maglia bassa, catenella di separazione, sul punto puff, un ventaglio, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, 1, 2, e 3, catenella, sulla maglia bassa, andiamo a fare, una maglia bassa, catenella di separazione, sul punto puff, il ventaglio, catenella di separazione, questo è il nostro angolo, quando arriviamo all'angolo, e stiamo facendo, il giro dei ventaglietti, andiamo sulla prima maglia alta, entriamo, dopo aver fatto la catenella, sulla prima maglia alta dell'angolo, facciamo una maglia bassa, poi 2 catenelle, entriamo nello spazio del nostro angolo, e formiamo il nostro angolo, il nuovo angolo, con 2 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo, 2 maglie alte, e abbiamo fatto così, un nuovo lato, nel nello stesso identico modo, in cui abbiamo fatto questi due lati, prosegui, facendo anche gli ultimi due, e ci troviamo alla fine del giro, per ripartire, devi semplicemente fare 2 catenelle, sposta magari il segna punto, e lo metti qui sull'angolo, ok, poi fai le 2 catenelle, per scendere, vai sulla seconda, l'ultima maglia alta dell'angolo, che è questo, qui, e fai la maglia bassa, una catenella per salire, e poi prosegui, come abbiamo fatto fino adesso, quindi, tu sei qui, 2 catenelle, una maglia bassa sulla seconda dell'angolo sottostante, una catenella, il ventaglio sul punto puff, una catenella, una maglia bassa sulla maglia bassa, e via dicendo, sono arrivata alla fine del lato, e quindi vado a congiungere, vedete che, e qui da dove siamo partiti, vado a congiungermi, come ho fatto anche nella parte sotto, quindi, ho fatto la mia catenella, attenzione, quindi devo finire il mio giro, entro nella prima maglia alta, quindi catenella, entro nella prima maglia alta, quindi, la prima dell'angolo sottostante, entro, prendo il filo, e faccio una maglia bassa, 2 catenelle per salire, quindi finisco come inizio, filo sull'uncinetto, e completo l'angolo, facendo le due maglie alte, che mancano, poi filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella, di inizio, che è questa, prendo il filo, e chiudo tutto insieme, tolgo il marca punto, perché adesso, in questo momento, non mi serve, mi servirà quando ricomincerò, con il terzo giro, forse è meglio che ve lo faccio vedere così, ripartiamo dal terzo giro, adesso è molto più semplice, perché, noi adesso andiamo a ripetere, il primo e il secondo giro, ne facciamo altri due insieme, così prendete la mano, e poi potete continuare, tranquillamente da soli, allora, quindi si parte, sempre con 3 catenelle, e poi rientriamo, di nuovo, nello stesso spazio, da dove siamo partiti, quindi qui, e andiamo a fare, una maglia alta, vedete che abbiamo fatto, il giro con i ventaglietti, dobbiamo rifare, il giro con i punti puff, quindi andiamo a fare, 3 catenelle, si inizia sempre così, quando dobbiamo fare, i punti puff, e nella maglia bassa, entriamo, e andiamo a fare, il nostro solito punto puff, con 3 fili tirati, e 3, passiamo all'interno, e chiudiamo, le due asoline, così, 3 catenelle, e sul ventaglietto, proprio in centro, andiamo a fare, una maglia bassa, 3 catenelle, sulla maglia bassa, nella maglia bassa, andiamo a fare, un punto puff, con 3 fili, non lavorati, così, prendiamo il filo, passiamo dentro, abbiamo due asoline, prendiamo il filo, e chiudiamo, di nuovo, 3 catenelle, quindi, le catenelle di separazione, sono sempre 3, e sul ventaglietto, si fa sempre, una maglia bassa, quindi, catenelle 3, e sulla maglia bassa, andiamo a fare, il punto puff, 3 fili tirati, passiamo all'interno, blocchiamo le due asoline, e di nuovo, 1, 2, e 3 catenelle, e come vedete, qui siamo, nel punto centrale, dell'angolo, quindi, quando arriviamo all'angolo, non dobbiamo fare, il ventaglio da 3, ma solo da 2, quindi, 1, e 2 maglie basse, 2 catenelle, rientriamo, 1, e 2 maglie alte, ho detto mica basse, prima vero? sono tutte maglie alte, queste, ok, quindi, come vedete, in centro, il ventaglio è mini, formato, quindi, solo da 2, maglie alte, 2 catenelle, e 2 maglie alte, si ricomincia, e quindi, vedete, abbiamo fatto tutto il lato, ok, si ricomincia, come abbiamo, cominciato da questa parte, quindi, 1, 2, 3 catenelle, sulla maglia bassa, il punto puff, chiudi, chiudi, 3 catenelle, nel ventaglio, 1 maglia bassa, 3 catenelle, 3 catenelle, 1 maglia bassa, 1 maglia bassa, è quasi inutile, farvi vedere, come proseguire, vero? perché, tu, semplicemente, devi fare, ancora, 3 catenelle, punto puff, nella maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, sul ventaglio, quindi, continuate così, quando arrivate, nell'angolo, anzi, vi faccio questo pezzetto, vi faccio rivedere l'angolo, sono arrivata vicino all'angolo, quindi, finisco, con il mio punto, puff, 3 catenelle, e vado, nel mio, angolo, vedete, ho fatto tutto il lato, vado nel mio angolo, e vado a fare, le mie, due maglie alte, due catenelle, e due maglie alte, così, tolgo il segno a punto, e lo rimetto, proprio qui in centro, ok, abbiamo fatto, quindi, due lati, uno e due insieme, adesso, ripartite, nel modo, in cui sapete, quindi, qui, vanno le tre catenelle, punto, puff, tre catenelle, maglia bassa, e ripetete, tre catenelle, punto, puff, tre catenelle, maglia bassa, ok, nell'angolo, che è questo, andate a fare, due maglie alte, due catenelle, e due maglie alte, e ripetete, tre catenelle, punto, puff, tre catenelle, maglia bassa, ripetete, tre catenelle, punto, puff, tre catenelle, maglia bassa, e via dicendo fino al nostro inizio che è questo dove siamo partiti con solo due maglie alte ci ritroviamo proprio qui siamo arrivati alla fine del terzo giro e quindi come vedete qui io sono partita ok siamo partiti con 3 catenelle e una maglia alta dobbiamo finire quest'angolo quindi entriamo all'interno dello stesso angolo questo e finiamo quindi facciamo due maglie alte e per chiudere questo giro filo sull'uncinetto nella terza catenella d'inizio quindi 1 2 e 3 entro proprio nella terza prendo il filo e lo faccio passare all'interno in questo modo qui non ho messo il marca punto vi consiglierei di metterlo in questo modo nella terza catenella voi fate 3 catenelle per partire sempre uguale 3 catenelle entrate e fate una maglia alta come consiglio vi direi di mettere un segna punto nella terza catenella 1 2 e 3 soprattutto per chi non è molto pratica e magari fatica un po trovare il punto in cui ancorarsi ok quindi abbiamo fatto 3 catenelle e una maglia alta per ripartire facciamo il nostro quarto giro quello dei ventaglietti quindi abbiamo fatto metà angolo per fare i ventaglietti si parte sempre in questo modo 2 catenelle andiamo nella seconda maglia alta l'ultima dell'angolo questa e facciamo una maglia bassa una catenella sul punto puff entriamo e andiamo a fare 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte questo e il giro che chiamo il giro che chiamo il giro dei ventagli così poi facciamo una catenella scendiamo nella maglia bassa e facciamo una maglia bassa una catenella sul punto puff il ventaglio quindi 1 2 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte si ripete grazie ok abbiamo visto come si inizia il giro del punto del giro dei ventagli guardiamo come sempre finisce questo giro quindi catenella entriamo nella prima del nostro angolo e facciamo una maglia bassa saliamo con 2 catenelle entriamo nell'angolo e facciamo 2 maglie alte solo 2 nell'angolo 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte togli pure il segnapunto e lo rimetti nel centro del nuovo angolo e si riparte quindi abbiamo visto adesso come finisci adesso riguardiamo come devi ripartire nello stesso modo quindi scendi con 2 catenelle nella seconda maglia alta entri e fai una maglia bassa una catenella e sul punto puff fai il ventaglio che sono appunto è composto da 3 maglie alte 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte una catenella di separazione vai nella maglia bassa maglia bassa una di separazione la question intruso allora diciamo che nel centro dell'angolo e del ventaglio sono due catenelle per scendere dall'angolo dall'angolo sono due catenelle e per salire sull'angolo sono due catenelle per il resto è sempre una catenella ok quindi tra un ventaglio e l'altro c'è sempre una catenella tra una maglia bassa e il ventaglio una catenella però se non vi ricordate basta guardare questo giro quello che abbiamo già fatto insieme ritorna subito in mente quindi dopo il ventaglio una catenella vado nella maglia bassa che faccio una maglia bassa una catenella per andare a fare il ventaglio 2 di separazione per fare il ventaglio per completarlo sono tre maglie alte 2 di separazione e 3 maglie alte ventaglio fatto catenella di separazione vado nella maglia bassa e faccio la maglia bassa catenella di separazione finisco questo pezzettino vi faccio vedere ancora l'angolo siamo praticamente vicino all'angolo dopo aver fatto il ventaglio faccio la mia catenella solito però questa volta non ho la maglia bassa o il mio angolo vado nella prima maglia alta dell'angolo e faccio la maglia bassa poi devo raggiungere quest'angolo quindi devo fare due maglie basse sono quindi pronta per fare il mio angolo con due catenelle si con due maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte così ora sposto di nuovo il mio segnapunto e lo rimetto in centro nel mio angolo devo ripartire per andare a fare la maglia bassa qui devo fare due catenelle ok ora sì che posso andare nella seconda maglia alta del mio angolo e faccio una maglia bassa una catenella per salire e vado nel punto passo a fare il mio ventaglio 2 catenelle di separazione rientro e faccio 3 maglie alte una catenella scendo nel punto basso e faccio il punto basso e ora vi lascio andare avanti da sole fate questo giro e questo lato e anche questo lato e ci troviamo ancora una volta per chiudere insieme siamo arrivati alla fine del nostro quarto giro 1 2 3 4 allora vedete qui ho il mio diciamo la mia metà angolo l'angolo d'inizio ok quindi ho la catenella entro nella mia prima maglia alta dell'angolo sottostante e faccio la maglia bassa 2 catenelle per poter salire e poi vado a finire l'angolo qui ne ho già due quindi ne vado a fare uno e uno due maglie alte e per chiudere vado nella mia terza che adesso si è allungata per il segnapunto ma noi la restringiamo subito vado nella mia terza allora vediamo 1 2 3 che poi non era quella ma era questa vado nella mia terza con il filo sull'uncinetto entro prendo il filo e chiudo tutte e tre le asoline così sono nuovamente in centro allora adesso vi faccio andare da soli i giri ora li conoscete come vedete stiamo facendo lo sprone della nostra raffaella splendida scusatemelo questo me lo dico io conoscete i giri che sono soltanto due il giro dei punti puff e il giro dei del punto ventaglietti dovete semplicemente se non vi ricordate ripartite anche solo dal penultimo giro che il terzo e fate terzo quarto terzo quarto terzo quarto tutto qui allora vi faccio vedere che cosa ho pensato dove sono arrivata innanzitutto ho fatto io calcolo vedete questo per me è un giro è quindi il giro dei punti puff e quello dei ventagli comunque sia calcolo 1 2 3 4 5 e 6 giri ho fatto 6 giri e sono arrivato come vedete so praticamente all'altezza della mia ascella dovrei andare ancora un pochino più giù no perché ovviamente deve deve esserci lo spazio giusto per far uscire il mio braccio e ognuno ha il braccio della dimensione giusta per sé quindi ognuno può avere un braccio più sottile un pochino più abbondante eccetera quindi in ogni caso sarei dovuta avrei dovuto continuare per arrivare all'altezza giusta del mio scalfo ma questa volta mi fermo qui quindi se voi volete potete andare avanti fin dove vi permetterà di avere il giusto scalfo quindi andate avanti come avete fatto fino fino a questo punto e poi cucite semplicemente le due parti per poi lavorare in in cerchio solamente sul corpo ok altrimenti seguite me io ho deciso di fare questo io ho già fatto aspettate che cerco di girarlo dall'altra parte ho già fatto l'altra parte per farvi capire bene ve lo metto sul manichino ok io adesso ho proseguito anziché andar giù dritto ho proseguito andar giù facendo uno scalfo che accompagni il giro mani il giro scalfo appunto ok proprio per andare sotto l'ascella quindi ora vi mostrerò come faccio in questo modo praticamente in questo modo qua noi arriviamo vedete sotto l'ascella e vediamo se riesco ecco dobbiamo ho lavorato solo una parte solo la parte sotto quindi non più anche la manica solo la parte sotto e diciamo che è una sagomatura più dolce ecco per arrivare sotto la mia ascella vedete che affianca proprio cioè è più morbida non è rigida ok non è rigida e quindi voglio farla in questo modo qua e vi faccio vedere appunto come si lavora questa parte e dobbiamo lavorare la parte da questa parte a questa e tornare indietro e quindi vi farò vedere come fare ovviamente io questi sono i giri con questo tipo di filato voi in base al filato che avete arrivate come vi ho fatto vedere prima ecco arrivate proprio all'altezza dell'apertura della vostra ascella e poi daremo lo spazio per arrivare fino alla metà del nostro corpo ok quindi c'è chi avrà un seno più abbondante ha bisogno di più spazio chi meno seno ha bisogno di meno spazio e via dicendo ovviamente questa parte combacerà con la parte che andiamo a fare adesso la chiuderemo e poi lavoreremo tutto intorno ok quindi questa è la maglia che voglio fare in top down andiamo a vedere insieme sul banco lavoro scusatemi la prima cosa che devo fare devo correggermi non ho fatto uno due tre quattro cinque sei giri non ho fatto sei giri ma i giri sono dieci li vedete da qui allora uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci ok li guardate dall'angolo che è la cosa migliore ho fatto dieci giri a prescindere da quello che vi ho detto perché poi ognuno di voi farà i giri che le servirà le serviranno allora vi dico invece questo come altezza vedete dalla punta perché dobbiamo finire con il punto ventaglietto allora dalla punta alla fine io ho dieci centimetri mentre mettendolo per bene in questo modo che siano pari dietro e avanti ok calcolando non il pezzo che ho aggiunto io ma solamente fin dove sono arrivata quindi dalla parte sotto fino alla fine della spallina io ho circa 17 centimetri 16 centimetri e mezzo più o meno 16 centimetri e mezzo ok non mi basta ovviamente ma con questa diciamo scollatura del sottoscella che noi faremo addolciremo un pochino come vi ho già detto prima lo scalfo e oltre ad allungare ci avviciniamo per arrivare alla metà del nostro corpo ok e fin qui ci siamo ora come si fa innanzitutto dobbiamo lavorare da questo angolo quindi nell'angolo più lungo da questo angolo all'angolo opposto quindi noi dobbiamo tagliare il filo quando arrivate al punto in cui vi ho fatto vedere col manichino tagliamo il nostro filo ovunque voi siate che ovviamente sarete nell'angolo no tagliate il vostro filo scusate io lo sto facendo fuori campo va bene e lo riagganciamo in questo modo allora vi spiego innanzitutto io ho finito con il punto ventagli vedete ho finito col giro dei punti ventagli devo lavorare sul rovescio in questo caso partirò sul rovescio e partirò con il punto puff mentre i punti ventagli ventaglio devono stare dalla parte dritta del lavoro perché altrimenti si nota ok quindi noi partiamo dal rovescio quindi il rovescio verso di voi il dritto sta sotto quindi noi partiremo proprio dall'angolo ok avete mi sono spiegata bene io sono nella parte quella più larga questa è la spalla e questa è la parte più larga quindi io parto a rovescio aggancio il mio filo sempre se lo ritrovo e qui ok ho agganciato il mio filo e adesso faccio le mie 3 catenelle d'inizio ok nello stesso angolo vado a fare il mio angolo solito quindi 2 maglie alte perché mi metto meglio 2 catenelle e di nuovo sempre all'interno dello stesso spazio che poi il nostro ex angolo andiamo a fare altre due maglie alte ok in poche parole a parte le 3 catenelle l'angolo rimane sempre lo stesso ok adesso devo fare il punto path quindi vado a fare 3 catenelle e vado nella maglia bassa a fare il mio punto path chiudo 3 catenelle maglia bassa sul sul ventaglietto e continuate così fino ad arrivare dalla parte opposta quindi nell'angolo dello stesso lato ok questo ci troviamo qui arrivata all'angolo dello stesso lato il lato più lungo sono partita di qua ho lavorato tutta la parte tutto il lato e sono nell'angolo e nell'angolo vado a fare il mio angolo normalmente quindi vado a fare due maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte ok ora vado a fare una terza maglia alta entro e faccio la terza maglia alta ok quindi io non la calcolo come angolo mi serve solo per definire bene la parte ora salgo con 3 catenelle quindi da una parte abbiamo due maglie alte dall'altra ne abbiamo tre salgo con 3 catenelle giro il mio lavoro senza fare ulteriori catenelle vado nello spazio e vado a fare il mio angolo quindi 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte così ora devo fare il punto il ventaglietto quindi vado con 2 catenelle scendo nella seconda faccio la maglia bassa una catenella sul punto pass faccio 3 maglie alte e cascato il comitolo non ditelo a nessuno è però 3 maglie alte 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte 2 e 3 una catenella vado nella maglia bassa una maglia bassa una catenella e ripeto il ventaglietto e via dicendo come abbiamo sempre fatto facciamo lavoriamo vedete siamo sul diritto adesso del lavoro lavoriamo tutta questa parte fino ad arrivare all'angolo opposto dello stesso lato ok sono arrivata alla fine del secondo giro del nostro allargamento del corpo secondo quindi da questo lato siamo partiti abbiamo fatto tutti i nostri ventaglietti siamo arrivati nell'angolo e quindi faccio ovviamente come sempre faccio la catenella nella prima delle 2 maglie alte faccio una maglia bassa 2 catenelle per salire non cambia nulla cambia solo il fatto che noi stiamo allargando la parte e quindi lavoriamo solo su un lato abbiamo fatto 2 maglie alte 2 catenelle rientro faccio le 2 maglie alte che mancano e poi nell'ultima catenella che equivale alla prima maglia alta questa faccio la mia ultima maglia alta senza fare catenelle ok così ora 3 catenelle per girare giro il mio lavoro quindi sono di nuovo sul rovescio del mio lavoro mi metto in posizione ho fatto quindi le 3 catenelle di partenza entro nel mio angolo e faccio le 2 maglie alte 2 catenelle e di nuovo nello stesso spazio 2 maglie alte devo fare il punto passo e quindi parto con 3 catenelle entro nella maglia bassa e faccio il mio punto puff da 3 maglie non lavorate chiudo tutto quanto insieme e chiudo le due soli ne 3 catenelle nel ventaglio maglia bassa procedo così per tutto il lato fino ad arrivare dalla parte opposta quindi dalla nel nostro angolino sono arrivata alla fine nuovamente la fine di questo lato e vedete siamo partiti da qui abbiamo fatto il nostro uno e due giri e questo che stiamo finendo il terzo giro quindi andiamo nell'angolo e finiamolo facendo il solito angolo quindi 2 maglie alte 2 catenelle rientriamo 2 maglie alte e poi sulla catenella di inizio del giro precedente andiamo a fare la maglia alta così ok adesso vi ho fatto vedere i due giri adesso voi dovete girare il lavoro e continuare in questo modo partendo e finendo sempre con iniziando con le 3 catenelle finendo con la maglia alta sulla prima maglia alta e poi fate ovviamente il vostro angolo quindi dovete semplicemente rifare i giri che vi ho mostrato fino a quando adesso che poi quando mi parte il motorino non riesco a fermarmi adesso vi faccio vedere allora dipende dal dal vostro fisico da quanti giri avete bisogno voi allora io quanti giri ho fatto vediamo partendo dal primo 1 2 3 4 e 5 giri ho fatto 5 giri adesso io farò gli stessi giri anche dalla parte opposta ovviamente e poi metterò un una spilla da balia da una parte e l'altra e lo troverò su di me perché ovviamente il manichino è una cosa provarlo su se stessi è diverso e se ritengo che sia giusta la misura mi fermo nel caso in cui fosse troppo o troppo stretta se troppo ovviamente disfo se troppo stretta continuerò ad andare avanti finché non trovo il mio giro seno ok giro seno o comunque il busto ok il busto e ovviamente io vi ho mostrato un lato la stessa cosa dovete farla anche per l'altro lato poi ci ritroviamo quando voi avete trovato la vostra misura ci ritroviamo vi faccio di nuovo rivedere sul manichino cosa ho ottenuto e procediamo poi insieme con il seguito ecco qui sono andata avanti come vedete adesso ovviamente c'è lo spazio che mi tiene il segnapunto no questo spazio qui non ci sarà perché io lo vado ad unire però vedete io ho fatto la misura che serve per avere per ospitare bene il mio braccio e la mia scella ok sia ovviamente da una parte che dall'altra quindi abbiamo lavorato ok aspettate abbiamo lavorato sia la parte dietro separatamente dalla parte avanti e adesso ci ritroviamo in questo punto in questo modo qui dove dobbiamo agganciarci e lavorare il nostro busto ok il nostro corpo se riesco a girare ok quindi siamo a questo punto torniamo volevo farvela vedere io l'ho provata mi sta comoda ovviamente lei più magrina va bene però a me sta comoda l'ho provata e sta bene adesso dobbiamo andiamo sul banco lavoro che vi parlo di centimetri eccoci qua allora fermatevi anche voi dove ci sono i ventaglietti così partiamo insieme ok fermatevi anche voi così vi do qualche misura che ho raggiunto allora adesso sono dalla base fino all'altezza della mia spalla a 20 centimetri 20 centimetri e come larghezza quindi da una parte all'altra sono a 46 centimetri ok dallo scollo alla fine del giro sono a 12 centimetri e mezzo bene adesso dobbiamo unire le due parti ovviamente perché dobbiamo proseguire sul nostro busto benissimo io sono a questo punto devo unire le due parti questo è il mio giro manica ok devo unire le due parti quindi io sono qui dove ci siamo lasciate dove siamo abbiamo proseguito ho il filo agganciato entro senza prendere il filo dalla parte opposta quindi qui prendo il filo e lo passo semplicemente dentro così ho agganciato questa parte poi io devo fare il giro dei punti puff quindi so che in questo punto nella maglia bassa avrò il punto puff su questo che sarà diventerà il nostro ex angolo farò la maglia bassa quindi proprio centralmente o il punto puff e quindi tiro su 3 catenelle poi entro esattamente da dove sono partita e vado a fare il mio punto puff con faccio sempre tre volte il filo non lavorato punto puff da 3 chiudo chiudo le due asoline e faccio 3 catenelle ora sull'ex angolo vado a fare una maglia bassa 3 catenelle e sulla maglia bassa vado a fare un punto puff ok chiudo 3 catenelle e sul ventaglio vado a fare una maglia bassa proseguite così fino ad arrivare dalla parte opposta dove uniremo insieme ecco sono in procinto dell'altra dell'altra parte dell'altra dell'altro scalfo e quindi oltre catenelle vado nell'ex angolo quello composto solo da due maglie alte e faccio una maglia bassa poi faccio 3 catenelle e adesso tolgo il mio segnapunto dalla parte opposta e mi creo un unione andando prendo il filo sull'uncinetto vado sulla prima maglia alta vede sull'ultima maglia alta di questo lato entro dentro e nel contempo prendo anche la maglia alta del lato opposto quindi entro dentro o il filo sull'uncinetto e prendo il filo e tiro su rientro prendo un filo e tiro su chiudo tutte e tre praticamente sto facendo un punto puff ma unendo le due parti e chiudo 3 catenelle vado sull'ex angolo e faccio la maglia bassa 3 catenelle punto puff nella maglia bassa seguente certo chissà perché non mi succede mai quando lavoro da sola e mi succede sempre guarda mi succede quando sono in registrazione vabbè capita dai due e tre chiudo e chiudo ok poi di nuovo 3 catenelle vado sul ventaglio e faccio la maglia bassa ok e come avete visto abbiamo unito senza problematiche questa parte qui che il sottoscella ok proseguiamo e andiamo ad unire la parte andiamo ad unire il giro dall'inizio che abbiamo fatto sono arrivata alla fine del giro fate attenzione a che sia dritto ok che non sia magari curvo ritorto e via dicendo dobbiamo chiudere il giro nella maniera più giusta ok quindi abbiamo fatto la maglia bassa andiamo a fare le 3 catenelle e poi andiamo nel primo punto puff che abbiamo fatto proprio in testa prendiamo il filo e lo portiamo all'interno in questo modo noi abbiamo chiuso di nuovo il nostro corpo vedete adesso qui è chiuso da una parte e dall'altra non ci rimane ora che proseguire sul nostro corpo ok andare avanti giro dopo giro per allungare il nostro corpo allora vi faccio vedere come si riparte lavorando in tondo praticamente noi siamo sopra il punto puff quindi io entro di nuovo nel punto puff per avvicinare meglio il mio punto puff ok poi sopra il punto puff noi sappiamo che va il punto ventaglio giusto quindi cosa facciamo partiamo con metà ventaglio quindi entriamo e andiamo a fare soltanto 3 maglie alte perché questo perché così quando finiamo il giro noi faremo come normalmente facciamo per l'angolo che è è vero che l'angolo è composto da solo era composto da solo adesso non abbiamo più angoli era composto da 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte noi invece i ventagli li abbiamo da 3 però il concetto è lo stesso quando arrivate voi nella stessa nello stesso punto in cui sono partite le 3 catenelle quindi qui dentro farete le 3 maglie alte mancanti e vi aggancerete come ci aggancia ci agganciavamo sempre nel nell'angolino quindi filo sull'uncinetto entrate nell'ultima maglia delle vostre 3 catenelle prendete il filo e chiudete tutte e tre le asoline insieme esattamente come facevamo per i nostri angoli in questa parte qui dove noi ci univamo quindi qui non cambia niente quindi succederà questo adesso solo per accelerare un pochino vediamo anche se un altro filo non importa solo per farvi vedere ok voi arrivate da questa parte provo a farvelo vedere in questo modo aspettate concentrati così ok arrivate in questo modo qua ovviamente non avete le 3 catenelle fate finta che ho fatto qui la maglia alta nello stesso punto io entro e faccio le altre due quindi in in totale devono essere 3 e 3 e poi filo sull'uncinetto vi agganciate nella prima nella diciamo nella maglia nella catenella più alta delle tre che abbiamo fatto in partenza e chiudete e così avete il vostro ventaglietto e siete proprio nel centro per ripartire ovviamente voi sapete che sul ventaglietto c'è la maglia bassa e quindi partirete esattamente così una catenella entrate all'interno proprio e fate la maglia bassa e poi proseguite ovviamente dovete fare il punto puff quindi sono 3 catenelle e andate a fare il vostro punto puff ok quindi cercate sempre di guardare adesso questa era una brutta copia di quello che farò cercate sempre di guardare come cosa c'è sopra se qui ci sono le 3 maglie alte del vostro ventaglietto qui ci saranno le 3 maglie alte del vostro ventaglietto quindi in totale 6 maglie alte più 2 catenelle cosa abbiamo sopra il ventaglietto la maglia bassa perfetto e sopra la maglia bassa che cosa ci sarà successivamente alla maglia bassa di nuovo la maglia bassa e sopra la maglia bassa ancora cosa ci sarà il punto puff ok quindi guardate esattamente sono sempre gli stessi giri voi chiudete e ricominciate nello stesso modo in cui faremo nel giro consueto ovviamente rispettando l'unione ok abbiamo visto l'unione col punto puff abbiamo visto adesso l'unione con il ventaglietto quando ci sarà sul ventaglietto la maglia bassa basterà entrare nella maglia bassa con una maglia bassissima e sulla maglia bassa fare la maglia bassa e sopra la maglia bassa invece per fare il punto puff riprenderete da questo punto penso che sia chiaro non mi rimane che dirvi andate avanti per il vostro corpo se vi necessita ancora un pochino di più non penso perché vi siete regolati da questa apertura però se avete chiuso e vedete che siete giuste 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 con la misura aumentate un pochino il numero dell'uncinetto penso che siete a misura giusta perché l'avete provato e quindi ci state dentro ma se lo volete leggermente più morbido dal 3 passata al 3,5 o dal 3,5 passata al 4 in modo tale da avere un pochino più di morbidezza sul vostro seno ritornate poi magari all'uncinetto iniziale quando siete sui fianchi se volete restringere leggermente sui fianchi per poi magari ritornare all'uncinetto un po' più grande sulla parte un pochino più abbondante che noi abbiamo ok quindi proprio in vita scusate primo detto fianchi ma era in vita quindi se in vita lo volete più stretto riducete il numero dell'uncinetto se invece sui fianchi lo volete più ampio lo allargate usate un uncinetto di una misura più grande o anche due misure più grande gradualmente ovviamente ok io procedo con il mio e ci vediamo quando sono a buon punto ok quello che adesso noi dobbiamo fare abbiamo visto come allungare se avete dei problemi ad unire i giri aspettate che adesso ve li mostro anche con con la manica ma è quello di decidere se lasciarlo così com'è quindi come come canotta quindi guardate che bella anche che viene la parte sagomata della parte proprio sotto l'ascella quindi lasciarla come canotta magari la rifinite proprio solo qui nella parte qui sotto con dei punti bassi oppure ripetendo il punto a ventaglio qui sotto oppure se volerla fare con la manica corta o la manica più lunga e quant'altro anche se fosse per esempio in in un filato di lana ovviamente qui potreste farla anche a manica lunga ok quindi ciò che adesso vi voglio mostrare è come procedere per realizzare la manica corta perché se siete arrivati a questo punto qui siete già ok ma se volete realizzare la manica corta ve lo mostro adesso per quanto riguarda l'unione dei giri la vedete anche qui nella manica che vi mostro ora quindi se non sono stata abbastanza chiara nel come spiegarvi per unire i giri del corpetto guardate come unisco i giri nella parte della manica e vi faccio vedere anche un altro metodo per eventualmente stringere un pochino per quanto riguarda la manica ma vale anche per il corpetto quindi andiamo adesso a vedere come si realizza la manica dunque come detto adesso vi mostrerò come realizzare la manica come l'ho realizzata io e allora guardate bene questo questa è la nostra manica e qui c'è la sagomatura che abbiamo fatto sotto la nostra ascella noi partiamo per iniziare il giro dal punto conosciuto quindi non queste parti che le guardiamo dopo ma il punto precedente al ventaglio quindi la maglia bassa la prima maglia bassa che vedete agganciamo il filo ok bene agganciato il nostro filo sappiamo che se il giro precedente quello coi ventagli noi dobbiamo procedere col punto puff quindi tiriamo su le solite 3 catenelle aspettate che non è un'ottima inquadratura ok 3 catenelle ora rientriamo di nuovo dentro e andiamo a fare il nostro punto puff classico quello con tre fili tirati e non lavorati passiamo dentro chiudiamo lo e facciamo le nostre 3 catenelle che servono per arrivare nel nostro ventaglio con una maglia bassa procedete ovviamente questo lo conoscete già in tutte le maglie conosciute cioè quelle che conosciamo e ci ritroviamo dalla parte opposta per fare il sottomanica ok sono arrivata all'ultimo ventaglietto perché poi dopo parte la sagomatura e qui ho ancora la maglia bassa quindi vado a raggiungere la mia maglia bassa e sulla quale farò il mio punto puff troppo vicino alla telecamera devo a staccarmi un pochino staccarmi un pochino ok bene ora ovviamente devo continuare però qui non ho più i punti conosciuti e quindi come andiamo avanti innanzitutto facendo sempre lo stesso schema quindi 3 catenelle poi andiamo nel vedete l'ex angolo questo ex angolo entriamo nella parte questa parte qui vedete dove ci sono le due maglie alte io raggiungo questa parte guardate bene questo è l'ex angolo raggiungo questa parte qui entro e faccio una maglia bassa ok 3 catenelle vado piano piano così guardate questo questo è la parte laterale di queste tre maglie alte questa io vado in quella successiva quindi questa entro all'interno e vado a fare il mio punto puff 2 e 3 e chiudo ok quindi il punto basso e nell'angolo ho saltato questo gruppetto e sono andata in quest'altro quindi ora faccio 1 2 e 3 catenelle salto questo spazio entro nel successivo facendo la maglia bassa non importa quante sequenze che scalfo che sagomatura avete fatto voi il criterio questo saltare uno spazio avete visto questo l'ho saltato e sono andate in quello successivo e poi di nuovo 123 salto questo punto path che vedo sotto che quello proprio centrale del del mio scalfo quindi finché voi avete questo continuata a saltarne sempre una ma è la stessa cosa che facciamo anche arrivando sotto la nostra ascella salto questo e vado in questo spazio quindi devo fare un punto path perché qui ho fatto la maglia bassa quindi entro all'interno nello spazio successivo e faccio il mio punto path poi regolatevi anche voi nel senso che l'importante che una manica venga uguale all'altra ovviamente ok poi se non saltate gli stessi spazi che salto io va bene l'importante che che sia uniforme cioè nel senso che non sia troppo stretto ma neanche troppo largo che poi vi fa le ondine quindi cercate di seguire il vostro lavoro quindi io faccio altre 3 catenelle salto di nuovo uno spazio e vado in quello successivo e faccio la mia maglia bassa di nuovo 3 catenelle salto lo spazio successivo e vado qui a fare la maglia bassa allora qui sono già arrivata ecco qui cercate no devo fare il punto path allora ho fatto la maglia bassa qui qui o il punto path se io faccio qui la maglia non posso fare la maglia bassa e non posso fare neanche il punto path qua ok quindi io cosa faccio vado a contare quanti punti path ho fatto nella manica precedente perché io l'ho già fatta e cerco di eguagliare se voi non l'avete ancora fatta allora io farei in questo modo io mi sposterei 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 il punto path anziché saltarne uno nel salto 2 e quindi vado qui a fare il punto path poi però devo controllare quanti ne ho fatto nell'altra manica comunque solo per farvi capire il ragionamento che dobbiamo fare quindi ho spostato di più come avete visto e poi 1 2 e 3 e devo saltarne 1 2 e vado vado qui così allo stesso spazio quindi io vado in questo punto con la maglia bassa poi 1 2 e 3 e raggiungo il mio punto path adesso quello che io vado a fare perché io la manica l'ho già fatta e numero 1 controllare se ho gli stessi punti path sia da una parte che dall'altra se non dovessi non dovessero essere gli stessi devo aggiustare il tiro quindi rubacchiare punti da una parte all'altra in modo tale che lo schema prosegua ed è solo il primo giro un pochino più complesso e poi dopo seguirà lo schema classico e se sono invece uguali ok procediamo insieme quindi contiamo se sono giusti i punti da una parte all'altra che poi riproseguiamo io ho contatto dall'altra parte o 12 punti paffe da qui ne ho 11 soltanto quindi devo sistemare quindi disco devo fare un punto paffe in più quindi anziché stringere devo cercare di regolarmi di conseguenza quindi ritorno a saltare questo e a fare qui un punto paffe io devo averne 12 quindi questo per farvi capire che dovete comunque sistemarli no poi magari faccio qui il mio punto basso quindi anziché saltarlo faccio qui il mio punto basso poi faccio le 3 catenelle poi vediamo un po che distanza è qui quindi qui devo fare per forza il punto pass si difatti 123 qui faccio il mio punto path poi 123 io vi sto facendo vedere e che anche me succede di non averlo magari calcolato bene ma adesso l'ho sistemato rubacchiando un po da una parte un po dall'altra ecco e poi mi aggancio avete visto questo è il punto paffe iniziale entro e mi aggancio quindi io devo avere 12 punti pass quindi calcolando da qui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 e 12 perfetto perché dico 12 perché nell'altra manica ne avevo 12 adesso siamo ok abbiamo sistemato la prima base per poter proseguire con la nostra manica il secondo giro non ha nessun tipo di cambiamento però vi faccio vedere come ripartire così magari se avete avuto qualche difficoltà nel nel corpetto lo potete vedere anche da qui è un giro più corto allora per prima cosa quando c'è il punto paffe io entro sempre prima di ripartire dentro il punto per avvicinarlo un pochino in questo modo e da qui io devo partire sopra il punto path che cosa abbiamo abbiamo sempre il nostro ventaglio quindi parto con le mie classiche 3 catenelle più 2 maglie alte a fianco metà ventaglio ok fatto il nostro metà ventaglio abbiamo una catenella di separazione e quindi nel giro dei ventagli come catenelle di separazione tra un ventaglio e un'altra ne rimane solo una perché non abbiamo più gli angoli così come nel corpetto sulla maglia bassa andiamo a fare la maglia bassa una catenella e sul punto paffe andiamo a fare un ventaglio completo quindi 3 catenelle 3 catenelle 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte ok e siamo partiti ora non avete ostacoli quindi proseguite con ovviamente qui c'è la catenella sulla maglia bassa va una maglia bassa una catenella e ripartite sul punto paffe il ventaglio proseguite per tutta la manica e ci agganceremo da questa parte ok cioè la parte iniziale ok come vedete sono arrivata alla fine del giro della mia manica della circonferenza manica ho fatto la maglia bassa la catenella entrò nello stesso punto in cui da cui sono partita per fare le prime tre maglie alte di cui una è appunto fatta con le catenelle entro e e faccio le tre maglie alte mancanti per il mio ventaglio quindi 1 2 e l'ultima 3 ora stessa cosa ripartirò da 1 2 e la terza catenella questa dell'inizio giro entro dentro prendo il filo e chiudo tutto insieme e qui abbiamo unito il nostro giro nella manica ora dobbiamo ripartire quindi sul punto ventaglio faccio catenella rientro e faccio una maglia bassa sappiamo che sul ventaglio abbiamo la maglia bassa e quindi partiamo con la maglia bassa come vi dicevo anche per il corpetto poi dalla maglia bassa 3 catenelle scendiamo nella maglia bassa del giro precedente e facciamo il punto puff quindi anche questo giro è normale ancora io non sono andata a stringere nel secondo giro ok procedete così per tutto il giro e ci troviamo per agganciarci in questo punto nel punto di partenza dove abbiamo fatto il la maglia bassa questa eccolo qua ci fermiamo proprio da questa qui si è visto ho finito anche il giro stiamo parlando sempre della circonferenza della manica anche il giro con i punti pass ho fatto le 3 catenelle e vedete questa è la maglia bassa iniziale quindi io entro nella maglia bassa iniziale entro proprio dentro così prendo il filo e lo porto nella solina e così ho chiuso il giro sopra la maglia bassa sappiamo che c'è sempre una maglia bassa sopra il punto ventaglio maglia bassa e sopra la maglia bassa c'è una maglia bassa quindi ripartirò con una maglia bassa facendo sempre una catenella per alzarmi entro poi nella maglia bassa e faccio la maglia bassa questo sempre come riferimento anche al nostro corpo no l'unione del nostro corpo e in questo giro in questo giro che andiamo a fare il primo punto ventaglio lo abbiamo fatto normalmente che volendo potete lasciare senza fare il punto puff potete lasciare questo tipo di decorazione come finale eventualmente voi siete in procinto di fare la canotta ok invece noi abbiamo proseguito siamo arrivati a fare di nuovo il punto ventaglio e siamo appunto in partenza ma io voglio stringere la manica e la voglio stringere moltissimo ciò vuol dire che io quello che vado a fare adesso è una catenella e da questo giro in poi io farò il ventaglio anziché da tre maglie alte più due catenelle tre maglie alte lo farò soltanto da due maglie alte due catenelle e due maglie alte quindi così ho fatto nell'altra manica e così farò anche in questa questo mio modo di diminuire quindi come vedete ne ho fatte due più due catenelle e più due maglie alte questo mio modo di diminuire potrebbe non andare bene per voi ok quindi dipende da quanto volete diminuire la dimensione la circonferenza della vostra manica visto e considerato che riprendiamo di qua è solo per fare un pochino di chiarezza visto e considerato questa è l'altra manica vedete questa è la mia manica io ho fatto il primo giro con i ventagli che questo il primo giro con i ventagli che questo qui normalmente poi ho iniziato con due maglie alte quindi ogni ventaglietto a due maglie alte ma non solo questo vedremo anche cosa succederà dopo e quindi la manica ovviamente si restringe ok e arrivo a una circonferenza solo per farvi vedere perché se avete seguito me a vito arriva una circonferenza di 17 contro le 20 che avevo prima ok quindi qui siamo a 17 contro 20 abbondanti per fare questa diminuzione seguitemi se invece siete già una misura giusta non volete diminuire semplicemente continuate a fare i ventagli da tre ok quindi tre maglie alte due catenelle tre maglie alte non cambiate né niente oppure volete diminuire meno ok allora farete un ventaglio con due più due più due e un ventaglio con tre più due più tre ciò vuol dire due maglie alte due catenelle due maglie alte e il ventaglio successivo tre maglie alte due catenelle e tre maglie alte ok quindi in base a come volete diminuirla farete questo che appunto vi ho appena detto ovviamente per aumentarla la stessa cosa però dovete aggiungere le maglie alte ok dovete aggiungerle anziché diminuire ma non credo che sia questo il caso ma doveste fare perché ognuno poi lo fa a modo proprio e potrete eventualmente anche aumentare questo ecco potrebbe però essere utile nel corpo perché se dovete andare ad aumentare nel corpo potrete aumentare come io le diminuisco così voi le aumentate e così voi farete poi quello che io vi farò vedere sulla manica lo farete anche per il corpo quindi aumentate il numero del ventaglio che diventerà quindi anziché tre diventerà quattro più due più quattro e però ovviamente il giro successivo dei punti path deve avere una modifica che ve la spiego dopo intanto io continuo la mia la mia manica e il mio modo di diminuire io questo questa diminuzione la faccio su tutti i punti ventaglio quindi maglia bassa catenella e entro nel punto path successivo facendo soltanto oramai 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte così è per tutto il giro e così da adesso in poi ogni mio ventaglio sarà formato in questo modo solo più due maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte quindi procediamo con questo giro formato da diminuzioni per quanto riguarda la mia manica oppure no a seconda di come la volete fare voi e ci troviamo alla fine giro che vale per tutti abbiamo finito anche il giro quello che abbiamo fatto sempre per la manica mi raccomando non vi confondete questa è la prima maglia bassa che abbiamo fatto del giro e il giro che abbiamo finito è quello con le per quanto mi riguarda con le diminuzioni quindi ho diminuito tutti i ventagli di una maglia come vedete ok quindi io devo non mi rimane che fare una catenella entrare nella mia maglia bassa come ho fatto nel giro precedente prendere il filo portarlo all'interno fare una catenella e adesso sulla maglia bassa devo fare il punto path e quindi ritorniamo a questo punto path iniziale parto con 3 catenelle rientro all'interno e faccio il mio punto path classico faccio passare il filo all'interno e chiudo ecco quello che vi dicevo e la diminuzione che deve ovviamente avere un senso se io stringo qui devo stringere anche il giro dei punti path ok quindi io ho fatto diminuzioni in tutti i ventagli di conseguenza per me è molto facile da adesso in poi farò tutti i ventagli da 2 più 2 più 2 e farò anziché 3 catenelle nel giro dei punti path ne faccio solo due quindi farò 1 e 2 catenelle entro nel mio archetto e faccio la maglia bassa quindi 1 e 2 catenelle e qui faccio il mio punto path quello che invece io vorrei dirvi perché io cerco di spiegare in modo tale che non vi troviate in confusione quello che io voglio dirvi è questo se voi avete intervallato una diminuzione sì e una no dovete intervallare anche le catenelle quindi una volta saranno da 2 catenelle una volta saranno da 3 catenelle altrimenti non riuscirete ad arrivare ad avere la diminuzione che voi volete se state invece aumentando e quindi avete qui anziché 3 maglie alte 2 scusate 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte ma ne avete 4 quindi 4 più 2 più 4 ovviamente mi dovete aumentare anche le catenelle del giro del punto path che diventeranno 4 ok quindi in base a quello che voi avete scelto se stringere o allargare se seguire me o non seguirmi dipende da quello che voi state facendo io vi ho dato tutti i ragionamenti possibili quello che voi dovete fare adesso e continuare vi ho fatto anche vedere come unire tutti i giri il giro col punto path il giro con il ventaglio il giro con la maglia bassa il giro con la maglia bassa e poi si riprende di nuovo col punto path ok queste sono le unioni che voi dovete utilizzare in ogni caso sia per la manica che per il corpo con questo io vi faccio andare avanti per la lunghezza che desiderate della vostra manica se la state facendo procedo anch'io con la mia ok allora questa arancione è finita quindi ho finito le due maniche non sono andata molto in lunghezza perché chi la dovrà indossare la indosserà corta e non vuole il bordino sul collo mentre per quanto riguarda me per la versione che adesso andremo a vedere io farò una piccola bordura sul collo quindi momentaneamente se volete potete lasciarla così come avete visto il finale è semplicemente quello con i ventaglietti nella parte sotto stessa cosa ho fatto per le maniche ovviamente da entrambe le maniche ma non rifinisco il collo perché lo vuole semplice quindi volendo potete lasciarlo così o fare un bordino anche solo di maglie basse o un punto gambero se volete e io devo lasciarlo così quindi vado a realizzare il bordino invece per la mia versione questa qui è completata spero che vi sia piaciuto andiamo a fare il bordino per il collo dell'altra maglia top down raffaella come detto questa la scollatura della maglia raffaella top down arancione rimarrà così com'è invece vi mostro come fare eventualmente lo scollo sulla mia allora per quanto riguarda lo scollo della mia maglia raffaella quella rosa e verde che avete visto io ho semplicemente proseguito come per l'altra l'unica differenza che ho cambiato i colori e quindi vedete vedrete i colori diversi nella parte sotto e nella nel bordino della manica quindi non c'è nulla di diverso come esecuzione se non fosse per il bordino e il l'aggancio della manica ovviamente c'è anche l'aggancio della manica diversa perché mentre quell'arancione l'abbiamo fatto insieme abbiamo sagomato questa manica invece io semplicemente sono andata avanti fino alla misura dello scalfo che desideravo poi ho chiuso senza fare nessun ponte sotto per quanto riguardava me parliamo del bordo io torno col mio amigurumi bianco e mi aggancio allora mi aggancio praticamente facciamo così agganciamoci a metà spalla in un punto conosciuto quindi facciamo sopra questo punto puff vedete qui abbiamo la nostra asolina questo è il punto puff agganciamoci proprio qui dove c'è questo archetto quindi entriamo prendiamo il filo che abbiamo scelto per fare il bordino io lo faccio bianco come la parte sotto e andiamo a tirar su le nostre 3 catenelle dobbiamo fare il punto ventaglio perché sopra il punto puff quindi rientriamo nello stesso punto e andiamo a fare due maglie alte ok e lasciamo metà ventaglio partiamo con il metà ventaglio una catenella di separazione andiamo nello spazio successivo che praticamente corrispettivo alla maglia bassa vedete del giro che abbiamo fatto per la nostra manica e facciamo una maglia bassa una catenella e stessa cosa entriamo nel nell'archetto successivo e andiamo a fare qui però il ventaglio completo quindi 3 maglie alte 2 catenelle rientriamo di nuovo e 3 maglie alte una catenella di separazione nello spazio successivo una maglia bassa una catenella dove c'è il punto puff abbiamo anche l'archetto entriamo alla metà più o meno la metà dell'archetto e andiamo a fare il nostro archetto fatto l'archetto una catenella entriamo nello spazio successivo che quello dove c'era vedi il nostro ex angolo e facciamo una maglia bassa catenella spazio successivo andiamo a fare il nostro archetto non è vero il nostro ventaglietto 2 catenelle ok nello spazio successivo una maglia bassa e andate avanti così per tutto il giro quando vi ritroverete di nuovo dove c'è l'ex angolo farete ciò che vi consente di fare il punto io adesso vado avanti e provo a vedere se segue tutto per bene eccola finita risultato finale mi piace tantissimo inutile dirvelo mi piace proprio tanto come è venuta spero che vi sia piaciuto perché se siete qui vuol dire fino a questo punto vuol dire che avete realizzato raffaella top down insieme a me vi faccio vedere anche come è dietro eccola qui come vi sembra io ne sono veramente molto 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 soddisfatta se volete mostrarmi la vostra raffaella top down ricordate che c'è sempre la possibilità di iscrivervi nel nostro gruppo il gruppo su facebook lo trovate sotto nel box informazioni così mi farete vedere iscrivetevi così mi fate vedere ciò che avete realizzato delle mie creature iscrivetevi ovviamente anche al canale ovviamente iscrivetevi così almeno sapete quando ci sono dei nuovi tutorial e ci ritroviamo la prossima volta grazie di essere stati qui con me ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti